Il primo solaio, questo un po' più pericoloso, si è comportato in maniera ineccevibile. Ora riempiono l'acqua per la verifica del solaio sottostante per l'auditorio, ma tutto promette bene. Ed anche il secondo carico per la prova del solaio al di sopra dell'auditorium sta andando non bene, ma benissimo. Ecco, la nostra chiesa.